Musica Signori e signori, buonasera, siamo qui in diretta da E42. A questo pubblico è dedicato questa bellissima intervista delle ragazze per la finale regionale del concorso Un volto per fotomodella. La parola a Eleonora che segue poi tutta la scapola. Buonasera a tutti, io sono Eleonora Monti, ho 19 anni e vengo da Roma. Questa è la terza volta che partecipo a questo concorso. Chiaramente oggi è un'emozione ancora più grande perché come ha detto giustamente Isa siamo in prefinale, finale regionale e niente. Spero sicuramente di continuare questa esperienza perché è un'emozione ogni volta grandissima. Continua con Martina. Ciao, mi chiamo Martina Carducci, ho 16 anni e vengo da Castel Gandolfo. Ho già partecipato a questo concorso però ogni volta è una grande emozione. Eleonora, prego. Beatrice. Eri eccola, Eleonora. Buonasera a tutti, sono Beatrice Fiore, ho 17 anni e vengo da Grotta Ferrata. E come hanno già anticipato le altre due amiche, se si può dire così perché appunto è un'occasione bella anche per fare nuove amicizie, è sempre una grande emozione e sicuramente ci divertiremo tanto. Elena. Salve, io mi chiamo Elena e vengo da Roma, ho 17 anni e questa è la seconda volta che partecipo appunto a questo concorso, spettacolare giustamente e come ha detto pure la ragazza Beatrice è un modo per fare nuove conoscenze e comunque sentire storie nuove. Sara. Buonasera a tutti, sono Sara Mancini, ho 15 anni e vengo da Roma. È la seconda volta che partecipo a questo concorso. È sempre un'esperienza bellissima, sono tuttissima emozionata e spero che vada bene e comunque venga la migliore. Proseguiamo con Giulia. Buonasera a tutti, sono Giulia Calil, ho 15 anni e vengo da Roma. È la prima volta che partecipo a questo concorso, ovviamente sto conoscendo tante fantastiche ragazze, è una grandissima emozione. Proseguiamo con Alessia. Alessia, 29 anni, sono di Roma e faccio anche le foto. E niente, è la prima volta che faccio questo concorso, così vediamo che cosa esce fuori. Io sono Giulia Di Stefano, vengo da Grotta Ferrata, è la prima volta che faccio questo concorso e ho 14 anni. Benedetta. Buonasera, sono Benedetta Antonelli, vengo da Grotta Ferrata e è la prima volta che faccio questo concorso. Giorgia, prego. Buonasera, sono Giorgia, ho 14 anni e vengo da Roma, è la prima sfilata che faccio. Alessandra. Mi chiamo Alessandra, vengo da Palestrina, ho 15 anni ed anche per me è la prima sfilata. Buonasera a tutti, mi chiamo Isabella, ho 17 anni e vengo da Padova e è la seconda volta che partecipo a questo concorso ed è un modo per mettermi in gioco e fare nuove esperienze. È la volta di Daniela. Buonasera a tutti, sono Daniela, ho 18 anni e vengo da Nettuno. Per me è la prima volta, però spero di essere all'altezza di tutte le ragazze. Beatrice. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice Isabella, ho 24 anni e vengo da Roma. Anche per me è la prima volta e sono molto emozionata e speriamo bene. Buonasera. Stella. Molto piacere, Stella. Marini Stella, vengo da Foligno, ho 25 anni, oggi ho sfilato per Miss Vintage, ma con questo concorso è la mia prima esperienza e ne sono molto contenta. E chiudiamo con Martina. Buonasera a tutti, sono Martina Cacigno, ho 21 anni e vengo da Roma. È la prima volta che partecipo a questo concorso, l'emozione è fortissima ed è sicuramente una bellissima esperienza. Un saluto a tutti, da tutti. Teleglobal.tv A presto. Buonasera a tutti e benvenuti alla 33esima edizione del Prima alla ruota, un posto per fotomodella. Benvenuti, noi siamo tanti, state mangiando ancora, lo so, però adesso vi dovete dare un po' di attenzione perché finalmente ci siamo arrivati alla finale regionale. Vi ricordo che stasera scenderemo due ragazze che poi parteciperanno alla finale nazionale che si terrà il 7, 8 e 9 settembre a più, quindi la prossima settimana, abbastanza imminente. Volevo fare quindi un ringraziamento a tutti noi e benvenuto alla mia giuria di qualità. Buonasera, che poi io credo a conoscere uno per volta, l'intervisteremo tutti. Lui sono fondamentali perché il nostro concorso, un posto per fotomodella, vuole dare una reale occasione alle ragazze di lavorare, quindi ci sono delle persone che lavorano all'ambito dello spettacolo che magari aiuteranno poi le nostre ragazze a diventare fotomodelle, attrici, eccetera, eccetera. Volevo fare un ringraziamento anche a teleglobal.tv, infatti vedremo questa trasmissione, questa serata di oggi tra qualche giorno in televisione, quindi mi raccomando ricordate teleglobal.tv e adesso direi, cominciamo la nostra bellissima carata, vedendo quella tutte in cera e ragazze che vediamo a fare in questa vista una per volta. E allora, benvenuti ancora tutti e ragazze qui, un prezzo, un posto per fotomodella! E allora, benvenuti ancora tutti e ragazze! E allora, benvenuti ancora tutti e ragazze che sono pronte, cominciamo di solito per chiamare la numero uno Giulia Cagli! Allora, io so che tu hai, indovinate, 15 anni, cioè questo è un po' di San Dona a 15 anni, in realtà di me che ce l'ho, prenda a 6! Vieni da Roma e, insomma, questo è un po' pericolosa, perché lei da grande vuole fare il giudice penale, vi confermi? Sì, di Udgen! Quindi fate attenzione a lei, se c'è qualche malandrino qua in mezzo, non lo dite, perché se no rischiate! Allora, sai certo a cosa che cosa fa un giudice e perché scelte il paniclice? Guarda, perché... Guarda la tua legata! Mi ha sempre piaciuto anche il lavoro di scuola, poi ovviamente, cioè, mia madre mi ha sempre appoggiato e anche roba tutte le cose che io non potevo fare e loro, beh, vedendo che Rijo, ci sento il tuo qua? C'è il papà perché... Sì, papà perché... Sì, non puccia, papà! Sì, così è che viene appoggiato. Allora, facciamo finta che adesso... Io per esempio sono una... Ah, no! Andiamo a presento a qualcuno... Piero Marchialotti, ecco, uno dei presidenti, uno dei giurati. Per esempio lui è un lato, tipo il Beppe, che ha commesso i peggiori punti, adesso lui mi saluta in un intervista, dovevi interrogare. Che cosa mi chiederesti per chi lavora questo lato, per capire che lui è un mio lato? Alla faccia da lato comunque. Non lo so, cioè, che lavoro fa, perché anche dal lavoro si può capire se ha la copertura o magari se lo fa, 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 se lo fa. La dica dice che ripara l'acceleratore, è dappure vuoi capire che viene? Possibile. Possibile, bellissimo. Ok, allora è andata. Proposta, giudice, penale, promesso. Prendi, lo stiamo con la seconda. La dica, la dica, la dica, Isabella. Allora, cantate lì, sapete, lei ha chiesto, mi raccomando, non vi farà. cantare. E ovviamente la faccio cantare, Laura, lo spiace. Lui, ma l'altro, ta' pure uno. Sì, sì, non me lo so. Ma stanza. Bene. Che avrai, la voce, brava. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao, prima vincente. Facciamo la numero 3, Martina Caccini. Hai 21 anni, sei di Roma e vai a fare cinema, lo canterai a me? Allora, fammi la faccia di serata. Ma perché proprio questo mi hai dovuto fare, per quale motivo proprio a me hai dovuto fare una cosa del genere? Mi sei graduta? Ma sì, dai! E' bene, grazie fine, un bacio! Mi metto un po' più felice di aver scelto di scelto, dai! Poi, la numero 4, Daniela Ottiano! Allora, Daniela, tu a 18 anni, sei di ventura e da grande vuoi? Nei, per fare una stitista! E' una stitista e da sicuramente con massaggi, unghie, con le informazioni, unghie e unghie. E' vero, qua c'è un mio massaggio, un mio massaggio, quindi signorina dicevi che ti sono in un bel massaggio ma che avrò chiamato la nostra Daniela, va bene, grazie signorina, ciao Daniela, passiamo a Daniela 5, vai in sera E' un mio volino, e pensate un po', veni qua, è sicimissima, io l'avo questa ragazza, mi ha detto che cosa vuoi fare da grande? Diventare ricca? Ricchissima. Ricchissima? E vuoi anche magari un marito ricco? Sì sì, no non è da quale. Giusto, allora, se tu sei un volito, per lei si capita se io non lasciavamo l'unione del telefono a la mia. Brava, brava, anche io mi vengono ricca. Grazie, ciao! Allora, passiamo alla numero 6, Alessandra Limpi! Wow! Ciao! Toglia e ti pare senni all'inquato di due campi a tua mano e vorresti fare da grande la strisca e in particolare cosa vuoi dire? Hai questi extra di amici, portini, eleganti, uomo, dottini? Eleganti! 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 E allora, commento che la prossima, la 30-40 edizione tu farai gli altri deleganti per me! Ok? Dai, te lo auguro! Grazie! Ciao! Voi還有 una scenza förella, Eleonora Conti! Musica Allora soprattutto perché se vuoi fare due studenze e fare qualcosa tipo avvocato ti conviene perché poi ti faranno lavorare più facilmente nella morte E' come la meglio Quindi bravissima Va bene, grazie mille Martina Carducci Musica E anche qui vuoi fare l'avvocato o no? Sì, 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 voglio fare l'avvocato Tu ci hai dati stasera, eh? Dove mai? E' una voglia di che ho finito a miniscola E mi dovrebbe stare avanti Ok, quindi abbiamo un altro avvocato stasera, voglia, eh? Cioè, non lo potete vedere, 15, 17, dobbiamo fare l'avvocato Quindi, al futuro non avremo problemi Ma anche di vociamista E' un po' lì E allora segnatevi anche di un suo nome perché l'avvocato va sempre comodo Grazie mille Ciao, ci vedete E allora, Maria, Isabella, Maria, Giulio Musica 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 Allora, Isabella, tu hai 16 anni, sei addirittura di Padova? Cioè, sei venuta da Padova? Sì, ci dico Ho avuto le vacanze in Puglia e in Puglia E infatti ci guardiamo il telefono in Puglia E ci sono in Puglia perché io vengo dalla Puglia e sono rientrata all'altro Viettice Guarda Padova e Padova e Padova Non sei stata nella mia Polignano a Marepo? Eh, mi dispiace, l'anno prossimo L'anno prossimo non mi viene in Puglia Allora, tutta grande invece, puoi fare intanto cosa in particolare? Mi piacerebbe fare il Puglia perché mi piace molto di fare la gente e questo racconto Che bello, carino E tu è bellissimo Che bello, senti danzata? Ah, ancora no, vabbè Vabbè, non c'è niente 16 Pensa io ho 36, sono sicuro qui E voglio che c'è tempo C'è tempo, va bene, grazie mille da voi Passiamo alla lunga a noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quando prima gli ho chiesto che cosa vuoi fare nella vita Gli ho detto che c'è tanti obiettivi E' un segreto, non te lo guardi E' un segreto E' un segreto Non te lo guardi E' un auguro, sicuramente lo farai Però a lei devo far fare una cosa Per tutti gli ho detto Ma chi sta a fare qualcosa in particolare? E mi ha fatto vedere una cosa che io non riuscirò mai a fare nella mia vita Vai Non ci siete Vedete il frutto al centro, ragazzi Che chi fa? Piego alla lunga in due Non so come fa Maglio vedere anche alla telecamera Così così Prendi Vai Vai Come fanno l'ultimo? E' un po' si do Va bene Grazie Beatrice Passiamo alla numero 11, Sara Mancini. E' da 15 anni, e di Roma, e mi ha detto la cosa, tutto il suono. E se io ti dovessi chiedere una ricetta al volo, che cosa ti dici? Eh, al volo, ma io sempre sento i ricettini, cioè, in particolare, in particolare, in particolare, in particolare, in particolare, perché mi piace la precettiva, la ricetta della crema, vai, al volo. Sì! Come no, la so pure io a memoria, che poco che sei, no? Dai! No, 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 non mi chiedi la ricetta. No, non mi chiediamo ricetta perché giustamente un cuoco non svela i suoi terreni. Vabbè dai, quindi si è salvato il carburantolo. Grazie, ciao! Passiamo alla numero 12, Elena Mirica! Sì! Allora, non mi chiedi la ricetta a Roma. No! No! No, no, che è buona. Siete alla Romania? Hai 17 anni di Cina Grange, può fare? Infine di tutto. L'architetto! Finalmente è una cosa diversa! Cosa è un particolare? Io ti chiedi. Ah! Ma sai che no? Siamo? 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 Quindi non vuoi fare la moglie, l'attrice? Sarebbe molto passione, mi piace essere più attuali, però la faccia è più attuale, la faccia è più attuale, la faccia è più attuale, la faccia è più attuale. Bravissima, credo che ci sono un momento particolare e difficile, uno ci spera, ci soffra, però non è detto che tutti ci riusciamo, bisogna avere sempre lo studio alle spalle, uno lavoro sempre, uno con il giorno proprio quello che è il muro. Bravissima, grazie. Numero 13, Giorgio Germani. Quanto ci guardano le tricame di gioco a tutti? Ai 14 anni, piccolissima anche lei, è di Atena e da grande non è fare l'attrice di Bocchioli. Allora, signori giurati, dobbiamo farvi fare una cosa. Bocchioli, come sei l'attrice di Bocchioli? Che cosa gli posso far intervistare? Guardate al volo. Una porzelletta, dai! Non lo so la parzelletta, Bocchioli. Un'altra cosa? Aspetta, eh. Emozionata, dai! Vabbè, facciamo una cosa, fatemi una bella e grossalizzata. Emozionata, dai, un grande applauso ancora ai fidanzi. Passiamo al numero 14. Alessia con la Y Spagna. Lei è la vecchia del gruppo. Si vede. Si vede. C'ho le rughe. C'ho le rughe. Io sono sempre più vecchia di te. Che bella, due vecchie. Che bella. Un mix, la mix del gruppo, insomma. E tra l'altro abbiamo anche una cosa in comune. Perché lei, oltre ad avere 29 anni, è diversina e non c'entra niente con me, va bene. Vedete le 29 anni che io sono 36. Però hai lavorato, anzi, lavori con gli studenti. Yes! Wow! Hai visto? Sulle macchini! Uh! Nessuna le ha! Ma forza! Se sgonchia, vergognatevi, vergognatevi. Poi fa la fotografa e il più ha fatto anche danza nel mente. Quindi faccio vedere una cosa velocezza. Catt�적ina di salto aiuto e il chino, non mi piace di entendeule un po però, che bella nelle difste, perché si fai un po, come fare le cose zoari. Ma l'ai ragazzi del Idule! Che bella? Quo' la tagged Quattordici anni, lei mi è diventata ferrata e anche lei è grande per fare l'attrice. L'attrice, quindi lei e adesso proviamo a dire a dire che si ricorda un film, quello che è scantissimo, quindi qualche battuta di un'attrice di film che mi piace. Dai, devi essere pronta perché provi di improvvisare, quindi improvvisa. L'attrice che mi piace, chi è l'attrice che mi piace? L'attore. L'attore preferito, la mia guada. E' il tuo tuo preferito? Johnny Depp. Johnny Depp e fammi un pezzettino di un giudice di Depp. Non ce lo ricorda. Va bene, allora appocciata come attrice, non scherzo, che sei soltanto emozionata, fammi la faccia innamorata. Innamorata? Innamorata. Così io devo notare, è carino però. Wow, sei fidanzata? No. No, eccomi che ha fatto quella faccia. Grazie, bellissimo. La guada numero 16, Giuseppe di Stefano. Ciao, bye. Ciao. Ciao, bye. Se non fosse per il fatto che nel frattico di prima non è un給oterne diverso? Io da grande vorrei fare l'attrice, però principalmente questa campionessa di ginnastica Allora, campionessa di ginnastica fammi una staccata No, stai lindosola E che fa una campionessa di ginnastica? Quale cosa ci deve avere la testa? E quello ce l'ha la testa? Sì Sta ragazza, l'attrice la vuole fare ma non la fa Se la campionessa di ginnastica non ce la resta? Oh! Niente, niente Dai, facciamo una campionessa di ginnastica Un pianto fortissimo! Quella faccia Niente, non ci faccio fare niente Vai, vai Cosciata Un applauso a tutte le ragazze Allora, adesso li abbiamo Dio Me Grazie per la visione!